Prosegue a colpi di denunce, azioni legali, polemiche e accuse furibonde la questione del blitz ambientalista di lunedì in un terreno coltivato a mais geneticamente modificato a Vivaro nel Pordenonese. L'irruzione di attivisti veneti e friulani dell'associazione IA Basta ha raso al suolo le piante trasgenniche facendo riesplodere il dibattito sugli OGM. La Lega, di nuovo difeso l'azione degli ambientalisti, definendola un ritorno alla legalità in materia ai senatori Vallardi e Montani, hanno annunciato un progetto di legge per la moratoria totale agli OGM, prendendo le parti del governatore del Veneto, Luca Zaia, nella nuova polemica a distanza col ministro delle politiche agricole, Giancarlo Galan. Nel frattempo, in Friuli, l'assessore alle risorse agricole, il leghista Claudio Violino, ha annunciato che la regione si costituirà parte civile se verrà confermato che era transgenico il mais piantato dall'imprenditore Giorgio Fedinato nel suo campo di Vivaro. Il blitz alla fine si è rivelato motivo di insolita convergenza tra leghisti e sinistra. I verdi si dicono preoccupati per il rischio di contaminazione dei campi vicini, che continuerebbe ad essere altissimo. Il mondo agricolo, intanto, chiede il rispetto delle regole da parte di tutti e condanna duramente l'azione degli ambientalisti. Per la CIA friulana, quello che è accaduto a Vivaro non può passare inosservato, anche se a fare luce in questi mesi doveva essere la giustizia istituzionale e non quella fatta in casa.